Segnalazioni di errore Qualora nel sistema di riscaldamento si presenti un malfunzionamento, il display emetterà un segnale lampeggiante rosso. Non lasciate che la cosa vi spaventi. Alcuni malfunzionamenti possono essere risolti tranquillamente da voi. Sul pannello di controllo manuale, gli eventuali malfunzionamenti sono indicati attraverso una serie di lampeggi. Dopo cinque rapidi impulsi lampeggianti verdi, avviene la visualizzazione della segnalazione del malfunzionamento tramite una sequenza di impulsi lampeggianti rossi lunghi. Contate il numero di impulsi lampeggianti rossi. In questo caso vi sono stati sette impulsi. Nel manuale digitale Risoluzione degli errori, troverete la segnalazione di errore corrispondente al segnale lampeggiante in questione. Sette segnali lampeggianti significano, ad esempio, surriscaldamento. Sullo strumento di controllo digitale, il codice di errore viene visualizzato sul display. Un surriscaldamento sopravviene, ad esempio, quando le uscite dell'area di riscaldamento sono bloccate. Non appena avrete rimosso la causa del problema, potrete azzerare l'errore. A tal fine, spegnete il riscaldamento e riaccendetelo dopo almeno cinque secondi. Con l'interfaccia digitale è sufficiente confermare l'errore. In caso di comparsa ripetitiva di un errore grave, come il surriscaldamento o il mancato avvio, il riscaldamento si blocca a quale misura di protezione. Solo una volta risolto l'errore sarà possibile rimuovere il blocco. Ma non preoccupatevi. Qualora non siate in grado di risolvere autonomamente un errore, i collaboratori dei nostri centri Webasto Service e delle nostre filiali di tutto il mondo sono a vostra completa disposizione.